Il tempo sereno, temperature con valori compresi tra i 17 e 26 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso vi lascio ad una nuova tappa di percorsi identitari. I Templari e le Crociate, il Medioevo e i Medioevi. È sullo sfondo la Puglia, terra di frontiera, luogo di mescolanze culturali e ideale palcoscenico di vicende storiche legate alla Terra Santa e ai Balcani. La Puglia è stata sempre una regione protesa verso l'Oriente, nel Medioevo così come è stato nei tempi precedenti, lo è ancora oggi. I Templari in Puglia ci sono arrivati dall'Oriente, hanno fatto della Puglia una delle basi di approvvigionamento delle loro sedie in Palestina. Il filone medievale pugliese è analizzato da due volumi al centro del settimo appuntamento di Building a Puglia. La rassegna letteraria curata da Teca del Mediterraneo. Nel primo, Vitoricci si muove sul piano della raffigurazione cognitiva della presenza dei Templari in Puglia, con precise implicazioni religiose, economiche e sociali. Si è avuta una presenza, la prima attestazione a 1142-43 a Trani e successivamente si sono diffusi dalla costa verso l'entroterra, dove nella zona della Capitanata, nella zona della Murgia e nel nord barese hanno impiantato tutta una serie di masserie che costituivano l'attività principale per il finanziamento delle attività in Terra Santa. Nel secondo, Renato Russo affresca la figura poliedrica di Boemondo d'Altavilla, pugliese alla prima crociata, figlio di Roberto Il Guiscardo, scaltro e ambizioso, noto per la sua spregiudicatezza politica che in guerra spiccava per la sua temerarietà. Boemondo d'Altavilla è il figlio di Roberto Il Guiscardo, il grande capo di Normanni che ha occupato l'Italia meridionale di mezzo giorno e ha lasciato un'orma indelebile diventando uno dei grandi condottieri della prima crociata. Un viaggio itinerante lungo punti geografici che hanno incarnato l'interscambio di tutti i tipi, nella consapevolezza che il territorio pugliese è stato attraversato da numerose intermediazioni sociali, come i popoli che a turno hanno solcato il Mediterraneo del nord. E oggi varrebbe forse la pena di rafforzare quel ruolo euro-mediterraneo per la Puglia, con strumenti moderni e con maggior coraggio e apertura mentale.